salve lo chalet crochet che vi presento oggi è lavorato a rombi e la sua lavorazione è molto semplice si parte con l'anellino magico facciamo una maglia bassissima per fermarlo e facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta una due e tre facciamo altre due catenelle poi una maglia alta sempre prendendo l'anellino magico due catenelle una e due un'altra maglia alta due catenelle di nuovo una maglia alta all'interno dell'anellino due catenelle ed un'ultima maglia alta a conclusione del primo giro a questo punto tiriamo il capo libero e chiudiamo la parte iniziale del nostro scialle il secondo giro si lavora in questo modo facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro e facciamo altre 2 catenelle sulla prima maglia alta che ci si presenta lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 ora facciamo 2 catenelle e una maglia alta sulla successiva del giro sottostante questa maglia alta fa parte del centro dello scialle ora facciamo di nuovo 2 catenelle e sulla maglia alta che troviamo subito dopo facciamo di nuovo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 di nuovo 2 catenelle e sulla terza maglia sulla terza maglia sulla terza catenella del del gruppetto sottostante di catenelle lavoriamo un'ultima maglia alta la conclusione del secondo giro terzo giro allora facciamo 3 catenelle allora facciamo 3 catenelle poi voltiamo 1 2 e 3 di nuovo 3 catenelle ora su questo gruppo di maglie sottostante lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta che troviamo una maglia alta su quella centrale e di nuovo 2 maglie alte sulla maglia alta successiva ecco qua iniziamo a fare i nostri rombi facciamo 3 catenelle e arriviamo al centro dello scialle lavorando di nuovo una maglia alta sopra quella sottostante ripetiamo per l'altro 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 lato dello scialle quindi 3 catenelle 1 2 3 e l'aumento sul gruppo dei 3 maglie quindi 2 maglie alte iniziali 1 e 2 una sulla centrale quindi una maglia alta e 2 maglie alte sulla maglia alta successiva 1 e 2 abbiamo sopra il gruppo di 3 maglie alte del giro precedente abbiamo 5 maglie alte ora facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 e terminiamo il giro con una maglia alta lavorata sempre sulla terza catenella di sotto quindi 1 2 2 le saltiamo e sulla terza facciamo la nostra maglia alta abbiamo terminato il terzo giro quarto giro facciamo 3 catenelle per voltare 1 2 e 3 voltiamo il lavoro e iniziamo con una catenella e una maglia alta presa sulla maglia alta sottostante sempre all'interno in modo da avere questo triangolino di aumento ora facciamo 3 catenelle e passiamo a lavorare il nostro rombo facciamo di nuovo una linea di aumento quindi 2 maglie alte sulla prima che ci si presenta 3 maglie alte all'interno quindi 1 2 e 3 e di nuovo 2 maglie alte sull'ultima del gruppo sottostante ecco qua ora facciamo 3 catenelle e passiamo al centro dello scialle nella parte centrale lavoriamo una maglia alta una catenella di nuovo una maglia alta e una catenella e terminiamo con una maglia alta ecco qua ora passiamo sul lato da lavorare quindi facciamo 3 catenelle e ripetiamo gli aumenti che abbiamo fatto sul rombo precedente 2 maglie alte su quella sottostante 3 maglie alte consecutive una due e tre due maglie alte su quella finale una una e due e due terminiamo con 3 catenelle ne saltiamo ne saltiamo 3 di sotto 1 2 3 e nella successiva lavoriamo due maglie alte divise da una catenella sempre prendendo la stessa sempre prendendo la stessa lo stesso punto ecco qua in pratica abbiamo lo stesso motivo a v che abbiamo realizzata all'inizio del giro abbiamo terminato il nostro quarto giro passiamo al quinto giro lavoriamo le nostre 3 catenelle che vi ricordo sono sempre in sostituzione della prima maglia alta di ogni giro facciamo 2 catenelle sulla maglia alta che troviamo sottostante lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 ora facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 saltiamo la prima maglia alta che troviamo partendo dalla seconda lavoriamo 5 maglie alte consecutive 1 2 3 4 4 e 5 l'ultima maglia del giro precedente l'ultima maglia alta del gruppo la saltiamo non la lavoriamo quindi andiamo a lavorare soltanto le cinque maglie interne vale a dire vale a dire iniziamo a diminuire per creare la punta del rombo facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 e sulla prima e sulla prima maglia alta che troviamo nella lavorazione centrale dello scialle lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 3 maglie alte ecco qua questo è l'inizio di un nuovo rombo come lo è questo che abbiamo fatto subito appena iniziato il giro ora una volta che abbiamo fatto questa questo gruppo di 3 maglie alte facciamo 2 catenelle e una maglia alta sopra quella centrale sottostante di nuovo 2 catenelle e facciamo nuovamente il nostro gruppo di 3 maglie alte sulla maglia alta successiva 1 2 e 3 andiamo a lavorare il lato opposto dell'uscialle facciamo 3 catenelle saltiamo la prima maglia alta sottostante e lavoriamo 5 maglie alte consecutive 1 2 3 4 4 e 5 3 catenelle saltiamo quindi la maglia sottostante 3 catenelle e lavoriamo e lavoriamo sulla penultima maglia maglia alta che abbiamo nel giro sottostante lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 per completare il nostro quinto giro per completare il nostro quinto giro non dobbiamo far altro che lavorare 2 catenelle saltare una catenella sotto e lavorare una maglia alta nella successiva nella successiva nella catenella successiva ecco qua abbiamo terminato il nostro quinto giro sesto giro facciamo le nostre 3 catenelle come al solito 1 2 e 3 voltiamo e lavoriamo di nuovo 3 catenelle ora sul gruppo di 3 catenelle di 3 maglie alte scusate che troviamo nel giro sottostante facciamo i nostri aumenti come abbiamo fatto precedentemente quindi 2 maglie alte sulla prima maglia alta che troviamo 1 e 2 una maglia alta su quella centrale di nuovo 2 maglie alte sull'ultima maglia alta ecco qua 3 catenelle e mentre i nuovi rombi crescono quelli vecchi vanno man mano a ridursi quindi in questo giro salteremo la prima maglia alta ne lavoreremo 3 consecutive una due e tre ecco qua saltiamo l'ultima maglia alta senza lavorarla facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 ci troviamo la nuova punta del rombo del giro precedente e quindi rifacciamo l'aumento 2 maglie alte sulla prima maglia alta una maglia alta su quella centrale e di nuovo 2 maglie alte sull'ultima maglia alta del gruppo in questa maniera ora lavoriamo 3 catenelle torniamo al centro dello scialle lavorando una maglia alta su quella del giro precedente di nuovo 3 catenelle e ripartiamo con l'aumentare il rombo 3 catenelle e andiamo a diminuire le maglie del rombo già lavorato 3 catenelle di nuovo e visto che ci troviamo di nuovo sulla punta del rombo facciamo i nostri aumenti 3 catenelle 1 2 3 4 4 saltiamo 2 catenelle sottostanti e nella terza facciamo il nostro la nostra maglia alta questo punto questo punto abbiamo concluso il sesto giro settimo giro 3 catenelle 3 catenelle 3 catenelle voltiamo facciamo di nuovo una catenella maglia e una maglia alta prendendo sempre la maglia alta sottostante e abbiamo il nostro triangolino iniziale ora facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 torniamo a fare gli aumenti sul nostro rombo 2 maglie alte sulla prima maglia alta che incontriamo 3 maglie alte consecutive una 2 e 3 e di nuovo 2 maglie alte sull'ultima maglia alta del giro precedente ecco qua a questo punto facciamo 3 catenelle e concludiamo il rombo lavorato dall'inizio terminando con una maglia alta ecco qua in pratica questo è un rombo concluso facciamo di nuovo 3 catenelle e andiamo ad aumentare il rombo successivo come abbiamo fatto con il primo 2 maglie alte insieme nella stessa maglia poi 3 maglie alte 1 1 2 e 3 e di nuovo un aumento nell'ultima maglia alta quindi facciamo 2 maglie alte nello stesso punto nello stesso punto ci siamo avvicinate al centro dello scialle in questo caso dobbiamo fare 3 catenelle e poi nella maglia centrale nella maglia alta centrale lavoriamo una maglia alta una catenella una maglia alta una catenella e di nuovo una maglia alta ecco qua continuiamo con le nostre 3 catenelle e passiamo a far crescere il rombo che troviamo subito dopo per aver guardato 1 e 2 per terminare il settimo giro praticamente facciamo 3 1 2 e 3 catenelle saltiamo 3 catenelle sotto del giro precedente e nella quarta lavoriamo una maglia alta una catenella e una maglia alta sempre nella stessa nello stesso punto ecco qua abbiamo terminato il nostro settimo giro passiamo passiamo a lavorare l'ottavo giro in questa maniera allora facciamo i nostri le nostre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta 1 2 e 3 voltiamo il lavoro e facciamo 2 catenelle sulla maglia alta sulla maglia alta successiva lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 facciamo 3 catenelle facciamo 3 catenelle e sul rombo che abbiamo di seguito iniziamo a fare le diminuzioni quindi saltiamo la prima maglia non lavoriamo la prima e l'ultima ma all'interno lavoriamo 5 maglie alte una due tre quattro e cinque ora facciamo 3 catenelle e sulla fine del rombo precedente che abbiamo terminato iniziamo a lavorare un nuovo rombo quindi su questa maglia alta lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte una due e tre facciamo 3 catenelle di nuovo e andiamo a lavorare 5 maglie alte sul rombo successivo saltando la prima e l'ultima 1 2 3 4 e 5 siamo siamo arrivati al centro dello scialle ora facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte sulla prima maglia alta che ci si presenta 1 1 2 e 3 2 catenelle e una maglia alta sulla su quella centrale del giro sottostante di nuovo 2 catenelle e un gruppo di 3 maglie alte sulla maglia alta successiva 1 1 2 e 3 e 3 ripetiamo la stessa lavorazione sul col su questo lato su questo lato dello scialle quindi facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 facciamo 5 maglie alte saltiamo la prima l'ultima 1 2 3 4 e 5 facciamo 3 catenelle facciamo 3 catenelle e in questo punto un gruppo di 3 maglie alte sulla maglia alta sottostante 1 2 e 3 maglie alte 3 3 catenelle come al solito e facciamo le 5 maglie alte sul rombo sottostante quindi saltiamo la prima maglia alta e facciamo 5 maglie alte 1 2 1 2 3 4 e 5 a questo punto siamo verso la fine del giro lavoriamo 3 catenelle sulla maglia alta successiva facciamo il nostro gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 poi facciamo 2 catenelle saltiamo una catenella di sotto e nella successiva facciamo una maglia alta ecco qua abbiamo finito il nostro ottavo giro 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 Grazie a tutti.